Poche conduttrici avrebbero trasformato un insulto in un'arma da esibire con un certo orgoglio come ha fatto Antonella Clerici, che ha reso questo suo sapere di sugo un motivo di vanto, perché, in fondo, è sempre meglio sapere di qualcosa di saporito anziché di qualcosa di inodore e insapore. Va da sé che la sua intervista a Belve sia stata una delle più appetitose e sugose dell'intera edizione, perché Antonella Clerici, con il suo pubblico, non ha mai nascosto nulla, né le gioie, né i dolori, né le arrabbiature. Di fronte alle domande di Francesca Fagnani, non si è tirata indietro neanche una volta, restando fedele a molte delle cose che ha condiviso e ripetuto negli anni. Le imperfezioni televisive che racchiudono la verità molto meglio di un prodotto montato e pettinato, l'amore incondizionato per la piccola Mael e il suo compagno Vittorio, l'amicizia vera e sincera con Carlo Conti e Fabrizio Frizzi, e la tigna che l'ha portata a essere un volto di punta della Rai per 36 anni, senza mai ricevere quella «pacca sulla spalla» che più di una volta avrebbe meritato. A Belve Antonella Clerici è stata se stessa così come è se stessa nei programmi che conduce, uno di più successo dell'altro, da è sempre mezzogiorno ai diversi spin-off di The Voice che sono riusciti finalmente a far attecchire in Italia un format che ha fatto la fortuna nel mondo, e anche nella sua vita privata. Siccome non ha niente da nascondere, e siccome non ha nessuno scheletro che deve tenere al riparo da sguardi indiscreti, la conduttrice non si è risparmiata né quando ha detto di essere passionale e di amare il sesso, esattamente come hanno fatto sempre a Belve Carla Bruni e Bianca Balti, e né quando ha messo con estrema schiettezza che, se fosse stata a Mediaset, sarebbe diventata multimilionaria perché tutti sanno che nelle reti private si guadagna anche il triplo di quanto si guadagna in Rai, anche se Antonella Clerici di cambiare non ha mai avuto voglia. Siccome le interviste più belle sono quelle in cui non si parla solo delle letizie, ma anche delle oscurità, Antonella ha scelto di parlare anche degli uomini con i quali è stata, aggiungendo che Vittorio Garrone è l'unico che non devo mantenere io. Il riferimento è ovviamente al suo ex compagno Eddie Martens, che, come ha dichiarato Antonella, l'ha tradita innumerevoli volte al punto da costringerla una volta a pedinarlo indossando una parrucca nera a caschetto. La cosa che più ha colpito delle sue parole, sia quelle rivolte alle corna con le quali è andata in onda, e sia quelle rivolte a Barbara D'Urso, che in un momento di grande difficoltà aveva annunciato a pomeriggio 5 un'intervista poi mai realizzata all'amante di Eddie, è stata la calma con la quale Antonella Clerici le ha pronunciate. È evidente che Antonella, da vera Gider qual è, sia in pace con tutto quello che le è successo e che ha gestito. Grazie al programma di Francesca Fagnani abbiamo sostanzialmente avuto la conferma di quello che sapevamo, ossia che Clerici è una professionista schietta, sincera e divertente che funziona così bene proprio perché non ha filtri e non ha sovrastrutture. Ed è per questo che la RAI dovrebbe tenersela stretta e che Luciano Ligabue dovrebbe accettare il suo invito a portare il Lambrusco a è sempre mezzogiorno per chiudere una volta per tutte quel sugo gate che, se ci pensiamo, ad Antonella ha portato pure bene perché quello che doveva essere uno sfregio si è trasformato in un manifesto alla sua irresistibile veracità e passionalità. Evviva il sugo, il soffritto e tutto ciò che fa gola. E tu cosa ne pensi della notizia? Grazie. 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 Grazie.